Non un'amministrazione, parliamo dell'amministrazione di Giacomo Tranchida, 2016 perché c'era Giacomo Tranchida, e 2017 Giacomo Tranchida e Daniela Toscano. Perciò vai a toccare due sindaci che alla fine, la Daniela Toscano è la controfigura politica di Giacomo Tranchida in questo momento, perciò vai a toccare due anelli dello stesso dito.